Ciao, sono Max Volpi e sono il fondatore del sito ifioridibac.com, nonché l'ideatore della floriterapia transpersonale evolutiva e delle costellazioni floreali, due dinamiche di lavoro interiore a base di fioridibac capaci di agire alla radice dell'inconscio. Ci sono cose da evitare quando iniziamo ad assumere i fioridibac? Lo scopriremo nel video di oggi che ti invito a seguire fino alla fine perché ci sono tanti spunti interessanti. Ma prima di iniziare ricordati di iscriverti al nostro canale youtube utilizzando il pulsante iscriviti che trovi qui sotto e dopo clicca sulla campanellina per ricevere ogni notifica relativa alla pubblicazione dei nostri video che avvengono ogni lunedì, mercoledì e venerdì. Fioridibac, che cosa evitare mentre assumo i fioridibac? In realtà nulla. Ci sono leggende metropolitane che dicono che i fioridibac siccome sono come l'omeopatia bisogna assumerli lontano dalla menta, lontano quindi dal dentifricio alla menta, lontano dal caffè, noi pasti, noi superalcolici. Ma in realtà i fioridibac non sono prodotti omeopatici, sono prodotti erboristici. Sono semplicemente fiori, essenze floreali e quindi di fatto sono acqua. Acqua informata ad un livello diverso rispetto all'omeopatia e questo ci porta alla conclusione che in realtà i fioridibac possono essere assunti mentre ci laviamo i denti con il dentifricio alla menta, mentre beviamo il caffè, mentre beviamo i superalcolici e non necessariamente lontano dai pasti. È ovvio che non assumiamo i fioridibac mentre mangiamo, ma questo sarebbe quasi inutile dirlo, credo, spero, e che tutti dovrebbero capirlo. Ovviamente cosa facciamo? Aspettiamo quei dieci minuti e poi assumiamo i fioridibac oppure li prendiamo dieci minuti prima di mangiare e non cambia niente. Però non ci sono in realtà delle controindicazioni, no? Anche in un altro video mi è stato chiesto se i fioridibac posso tenerli sulla scrivania vicino al computer oppure se le vibrazioni... e io ho semplicemente risposto che siamo talmente immersi nelle vibrazioni, abbiamo wifi ovunque, onde radio ovunque, l'autoradio, il computer, che se i fioridibac assumessero una vibrazione negativa da parte di questo non funzionerebbero mai. In realtà non è così, i fioridibac funzionano comunque, ok? Quindi in realtà non c'è da evitare nulla, si può fare tutto tranquillamente. È ovvio, ma è scontato quasi, che non prendiamo i fioridibac mentre mangiamo la carbonara, ma lo facciamo dieci minuti dopo. È tutto qui in realtà, ok? Quindi puoi stare tranquillo, puoi stare tranquilla che puoi assumere tranquillamente i fioridibac pur lavandoti i denti col dentificio alla menta, pur bevendo il caffè, pur bevendo i superalcolici. Poi il caffè superalcolici decidi tu se li vuoi bere, oppure se è meglio di no. Io sono Max Volpi, sono il fondatore del sito ifioridibac.com, nonché l'ideatore della floriterapia transpersonale evolutiva e delle costellazioni floreali, due dinamiche di lavoro interiore e di crescita personale che potrai scoprire sul nostro sito accedendo attraverso i link che trovi qui sotto nelle note. Grazie e ciao!